Grazie al contributo di una testimone siamo riusciti a individuare il luogo e il periodo e anche l'ora. Sulla base di questo stiamo incrociando i dati per giungere alla persona che non abbiamo ancora individuato ma abbiamo degli elementi che ci stanno portando a farlo. Un nome ancora non c'è ma ci sono tutti gli elementi per individuarlo. La linea è la 4, quella che va a Cadoneghe. Bus Italia Veneto, per voce del suo presidente Andrea Ragona, assicura che una volta identificato l'autista verranno presi i dovuti provvedimenti. Se fosse un dipendente di Bus Italia sicuramente andrebbe incontro a una sanzione, quale però è presto per dirla perché c'è una commissione che valuta queste cose. Se fosse un dipendente esterno possiamo limitarci noi a chiedere che non guidi più un mezzo pubblico mentre per le punizioni o le eventuali sanzioni sarà il datore di lavoro a scegliere. Non tutti però puntano il dito verso l'autista. I sindacati pur stigmatizzando il comportamento del singolo evidenziano come un lavoratore che ha un comportamento del genere va aiutato, non licenziato. Secondo me una persona così deve essere aiutata perché c'è il rischio fisicamente che crolli. Gli autisti, continua Rizzi, sono troppo spesso vittime di soprusi da parte degli utenti. Cioè è veramente un lavoro che ti porta al limite perché hai problemi con l'utenza, hai problemi con gli utenti della strada e ultimamente la mancanza di rispetto anche ti ha portato da parte di tutti, ha portato qualche autista ad esagerare e qualcuno esplode purtroppo. Grazie. 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 Grazie.